Gentili telespettatori, siete collegati con lo stadio olimpico di Serravalle dove va in scena il secondo appuntamento casalingo per la nazionale Under 21 di Armano Ferrari. Dopo la Svezia l'avversario di turno è l'Ungheria, in qualificazione la fase finale del campionato europeo di categoria. Ma ascoltiamo l'inno nazionale ungherese. Grazie. L'Ungheria ora è la volta dell'inno nazionale san marinese. Applausi del pubblico per le due formazioni in campo. Andiamo a vedere subito quelle che sono le formazioni. L'Ungheria con Balogo, Puzza, Selesi, Totte, Zuitoski, Busaki, Bodor, Torgel, Vanzak, Nemete, Baisat. Questo è l'undici della nazionale ungherese. In panchina Zantai, Pandur, Ferrer, Koplakovics, Zegledi, Yuzain e Yosi. Per quanto riguarda la nazionale bianca-azzurra è in porta Federico Valentini. Numero due Fabio Vitaioli con il tre Matteo Gorini. Con il quattro Federico Crescentini con il cinque della valle, con il sei. Alexander Renzi, l'autore del gol contro la Svezia. Poi Alex Gasperoni, Marco Domeniconi, Nicola Ciacci, Luca Bonifazi e Michele Moretti. In panchina con Romano Ferrari. Ci sono Roberto Guerra, Matteo Bugli, Gabriele Giovannini, Lorenzo Canini, Alan Toccacieli, Fabio Bollini e Davide Vagnetti. Rispetto alla formazione che ha giocato contro la Svezia, fa il suo rientro in squadra. Matteo Gorini, a cui lascia il posto il giocatore Fabio Bollini. E come detto Alexander Renzi fa il suo debutto dall'inizio. Gli lascia il posto Alan Toccacieli. L'arbitro dell'incontro è il maltese Anthony Zammit, coadiuvato da Josef e Alan Camilleri. Foto di gruppo per la nazionale di Ermanno Ferrari. Andiamo a vedere quella che è la classifica del gruppo 4. Guida la Polonia con 12 punti. Ungheria e Svezia 9. Lettonia 6. San Marino fermo a quota 0. Fa davvero un gran caldo qui allo stadio olimpico di Serravalle. Sicuramente avversario in più per le due squadre. Tutto pronto per l'inizio di questa sfida. I due collaboratori del direttore di gara stanno controllando le due porte. Tutto a posto. E dunque sta per iniziare la sfida. San Marino che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Ovviamente l'Ungheria da destra verso sinistra. Batterà il calcio di inizio proprio la nazionale Under 21 San Marinese. Partiti. Renzi allarga su Gorini. Cercato Moretti. Della Valle. Si giostra a centrocampo con Marco Domeniconi affrontato in maniera fallosa. Ci sarà dunque calcio di punizione già battuto. Crescentini si allarga e riceve Vitaglioli. Suggerimento su Gasperoni. Ancora Vitaglioli. Domeniconi, Gasperoni, Vitaglioli. Pallone in profondità. Ancora Gasperoni. Il tocco al centro nel tentativo di inservire Gasperoni. Anzi chiedo scusa Domeniconi. Tentativo fallito. Con le mani Fabio Vitaglioli. Pallone ancora tra i piedi della nazionale Under 21 con Bonifasti che tenta di farsi luce. Pallone catturato da Nemet che cerca un pallone verticale della Valle. Regalata la sfera agli ungheresi. Puzza. Poi Bodor. Il lancio in profondità nella zona presidiata da Michele Moretti. Gorini. Ancora l'Ungheria. Ora in possesso di palla. Si viaggia per vie orizzontali. Pallone tra i piedi di Van Zacche. Poi direttamente tra le braccia di Federico Valentini. Gorini. Della Valle. Qualche problema in questo caso per il pressing di Zuitkovics. Nomi abbastanza complicati. Questi degli ungheresi. Sono trascorsi due minuti dall'inizio del primo tempo. San Marino 0. Ungheria 0. Si gioca per la qualificazione ai campionati europei che si svolgeranno in Portogallo nel 2004. C'è un calcio di punizione in favore della formazione allenata da Ermanno Ferrari. Si porta della Valle il capitano nei pressi della battuta. Il servizio per Crescentini. Si allarga Vitaioli. Riceve. Fabio Vitaioli classe 1984. Pallone in verticale. Una serie di batti e ribatti. Poi Bonifazi. Ora Puzza. Servizio su Nemet. Allarga il gioco. Torgel. Riesce a tenere il pallone in campo. Val traversone. Attenzione. Prima azione pericolosa degli ungheresi con il colpo di testa di Bajzat. Pallone che termina non lontano dal palo difeso da Valentini. Comunque si riparte. Con Vitaioli. Il servizio su Alex Gasperoni. La palla di ritorno. Poi Bonifazi. Ancora per Gasperoni. Interviene Nemet. Nemet. Pustai. Ancora lui in possesso di palla. Allarga su Van Zacke. Bodor. Manovrano gli ungheresi. Palone che arriva a Basait. Allarga molto bene sul settore di destra. C'è la sovrapposizione. Parte un traversone. La chiusura. Calcio d'angolo. Eile. Primo corner per la formazione ungherese allenata da Rot Antal. Questo è il nome del selezionatore ungherese. Dalla bandierina. Zwickovics. Il traversone. Il colpo di testa di Van Zacke. Pallone alto. Sopra la traversa. Fa davvero un gran caldo. Almeno 27-28 gradi. Qui allo stadio olimpico. Qui allo stadio olimpico ci troviamo nella tribuna lato mare. rinnovatissima. Rinnovatissima. Una tribuna logisticamente parlando davvero funzionale. un gioiello. Un gioiello quello della tribuna lato mare. dello stadio olimpico di Saravalle. Seguiamo ancora l'incontro con Puzza. Allarga il gioco. Bodor. Poi Nemet. Pallone al centro. C'è un controllo difettoso. Poi viaggia sul settore di destra. Zwickov che viene chiuso ancora in corner. Secondo calcio d'angolo per la formazione ungherese. Dalla bandierina. Ancora Zwickovics. Solito mucchio in area di rigore. Pallone arcuato. Attenzione c'è un fallo ravvisato dal direttore di gara. Lo ricordiamo il signor Anthony Zammit della Federazione Maltese. Si riprenderà dunque con Valentini che andrà al rinvio. Per lui sei presenze nella selezione di Armando Ferrari. nato il 22 gennaio del 1982. Valentini. Attenzione ancora all'Ungheria. Pallone in mezzo. Valentini. Non si fa sorprendere. Gasperoni. Gasperoni. Ottimo il controllo. C'è in mezzo Domeniconi. Lo scambio con Alexander Renzi. Messo a terra. Ci sarà calcio di punizione. Sicuramente un buon elemento questo arrivato da Detroit a risposto alla convocazione di Armando Ferrari. Si dice che sia una scoperta di Massimo Bonini. Valentini nella sua esperienza americana ha scovato questo ragazzo che vive a Detroit ma è di nazionalità san marinese. Valentini. Lo scatto di Ciacci. Hanno la meglio i difensori ungheresi. Ungheresi sulla destra manovra Zelesi. Pallone in verticale completamente sbagliato. Regalata l'ha rimessa in gioco al San Marino. Otto minuti sul cronometro. Risultato ancora inviolato. San Marino zero. Ungheria zero. Busaki. Il tocco all'indietro è per Nemet. Torgel. Tott. Allarga. Su. Zuzkovic. Sbaglia. Regalando la sfera a Vitaioli che prova subito il lancio profondo a cercare Ciacci. Banzac. Tott. Manovrano i difensori ungheresi. Pallone poi che viaggia sulla sinistra per Nemet. Poi è Bodor che non riesce a controllare la sfera. Rimessa in gioco. Vitaioli. A cercare Domeniconi il controllo e il servizio su Gasperoni. Renzi. Sbaglia l'appoggio. Allora l'intervento di Torgel. C'è il calcio di punizione in favore dell'Ungheria. Tott. Il tocco è per Nemet. ma l'arbitro dice che è tutto da rifare. Tott. Allarga sul settore di destra. Zelesi. Vanzac. Buzachi. L'intervento di Vitaioli nei confronti di Nemet è falloso. L'arbitro dice a Vitaioli di stare tranquillo. Pallo assolutamente non cattivo. Quello di Vitaioli. Buzachi. il tocco orizzontale per Pusa. Poi Nemet. Attenzione. Nemet è il tiro della Valle che ci mette il corpo in maniera provvidenziale. Poi Bonifasi. Mette in fallo laterale. Il servizio su Torghel. La rovesciata. Crescentini. Attenzione. Della Valle a mettere fuori il controllo un po' complicato di Bonifasi. Poi Ciacci. C'è un fallo ai danni di Luca Bonifasi. Per lui cinque presenze. Gioca con la Juvene Sdogana. Anche per lui ventun anni. Classe 1982. Della Valle sul pallone il capitano della formazione allenata da Armando Ferrari. O servito Gorini. Poi se ne va Alexander Renzi. Buona falcata. doppio passo. Cerca un varco Renzi. Guadagna un calcio d'angolo. Applausi per Alexander Renzi. Sicuramente giocatore importante per questa selezione. Ha già fatto vedere ottime cose. Dalla bandierina Gorini. Pallone al quattro. C'è il colpo di testa di Crescentini. applausi per quest'azione della formazione bianca-azzurra all'undicesimo Crescentini. È andato colpire di testa sul corner di Bonifasti. Colpo di testa finito non lontano dalla traversa difesa da Balog. in rinvio delle portiere ungherese della valle poi Gorini nella zona presidiata da Vitaioli. Pallone in verticale Basaki si gira poi servizio per Nemette cerca lo scatto ne mette viene fermato da Domeniconi lo scatto di Domeniconi piace questa Under 21 questa sera Gasperoni Bonifasti il tocco centrale per Renzi ancora l'1-2 con Bonifasti non si chiude per l'arrivo di Buzzachi l'apertura tutto a destra su Torghel su di lui della valle Torghel va alla conclusione finita fuori la risposta dell'Ungheria al colpo di testa di Crescentini è di Torghel al tredicesimo il rinvio di Valentini di testa Puzai poi Domeniconi Vitaioli prova il preziosismo Gasperoni non riesce nel suo intento hanno già rimesso in gioco i giocatori ungheresi si gira molto bene Baisat c'è un fallo dice il direttore di gara ravvisato da parte di Baisat e allora Gasperoni va al lancio profondo nel tentativo di cercare Alexander Renzi anticipato siamo sul sottore di destra con Totte il tocco solito orizzontale per Puzai poi scende a sinistra Bodor Renzi prima di lui Totte con un fallo Alexander Renzi calcio di punizione si va al piccolo trotto anche per il gran caldo l'abbiamo detto più volte pallone servito a destra per Totte si muove molto anzi si trattava di Zelesi ora c'è l'incursione pallone scaraventato in area di rigore cerca Bodor di tenerlo in campo non ne vi riesce la rimessa in gioco è bianca azzurra Gasperoni mette in una zona di campo presidiata solo da maglie bianche allora Puzai ancora una verticalizzazione Vitaioli un po' goffamente in questo caso ne mette ne mette Gasperoni su di lui mette la palla in mezzo esce o almeno tenta di farlo Valentini è la chiusura di Gorini in calcio d'angolo per quello che è il terzo il terzo corner in favore tutta rintanata in questo momento la nazionale di Armando Ferrari con l'Ungheria che spinge anche se lo fa al piccolo trotto molto molti fraseggi da parte dei giocatori ungheresi non c'è velocità nel gioco di Rot Antal selezionatore dell'Under 21 ungherese in piena corsa per la qualificazione il tentativo di Buzachi messo a terra calcio di punizione il fallo su di lui è di Alex Gasperoni per lui classe 84 è uno studente di proprietà del San Marino calcio siamo a circa 20 metri dalla porta difesa da Valentini sembra Zuitkovich l'incaricato di questo corner 4 giocatori in barriera è pronto il tiro passa Valentini con i pugni poi la difesa biancazzurra si rifugia ancora in calcio d'angolo anzi si tratta di fallo laterale già battuto ma è una sorta di corner corto Crescentini Vitaioli bisogna liberare l'area lo fa Vitaioli guadagnando anche una rimessa in gioco l'ultimo tocco è stato di Nemet con le mani Vitaioli Van Zacke poi Puzai che ha la maglia completamente strappata ora manovra l'Ungheria sulle settore di destra pallone che arriva a Puzai il servizio orizzontale è per Bodor Van Zacke Puzai molto macchinosa la manovra Ungherese ora passa tra i piedi di Totte attenzione chiude Vitaioli che stringe le maglie della difesa biancazzurra i due centrali li possiamo vedere anzi direi tre centrali della valle Crescentini e Vitaioli con Vitaioli spostato a destra Crescentini della valle in mezzo Gorini a sinistra l'anticipo di Crescentini il fallo su di lui è di Baisat calcio di punizione in favore di una buona nazionale almeno fino a questo momento di minuti ne sono passati 19 San Marino 0 Svezia chiedo scusa Ungheria 0 Valentini salta di testa Gasperoni poi Ciacci protegge molto bene con il corpo davanti poi cerca una serpentina va giù ottima azione di Ciacci ci potrebbe stare anche una targhetta amariglia vediamo se il direttore di gara deciderà per l'ammunizione è così ammonito Puzai al ventesimo dopo la serpentina di Ciacci il fallo e il direttore di gara ha annotato sul suo tacquino il nome di Puzai primo ammonito di una partita sostanzialmente corretta tutto pronto per il calcio di punizione uno schema Vitaioli va all'attraversone poi pallone che danza e Domeniconi che tenta di rimetterlo in mezzo schema non riuscito in questo caso alla nazionale under 21 si distende l'Ungheria e bravo Gorini ad intervenire ma c'è anche un fallo almeno dice così il signor Zammit calcio di punizione già battuto pallone per Totte Buzacchi il capitano si ferma l'apertura sulla sinistra per Bodor pallone al centro esce Valentini per un momento poi torna sui suoi passi pallone che però termina direttamente in fallo da fondo campo nessun pericolo in questo caso può andare al rinvio Federico Valentini ci avviciniamo alla metà del primo tempo sempre 0-0 Van Zac Bodor vedete molto molto lenta la manovra ungherese San Marino per il momento tiene il passo con le mani Gorini il servizio su Michele Moretti poi un'altra decisione del direttore di gara a fermare il gioco calcio di punizione già battuto Buzachi la verticalizzazione è libero Zuitkov è il servizio attenzione c'è un tiro che parte dai piedi di Torghiel poi libera e guardagna la rimesse in gioco Michele Moretti la verticalizzazione di Gorini nella zona però presidiata dai difensori ungheresi poi Renzi cerca Bonifasti c'è forse una gamba tesa infatti è così l'arbitro fischia già battuta la punizione lo scambio tra Van Zac e Buzachi poi siamo sul settore di destra pallone in verticale Crescentini Vitaioli poi Gasperoni e Bodor attenzione parte un tiro poi Valentini ci mette una pezza primo vero pericolo per la porta di Valentini al ventitreesimo con il tiro di Bodor Valentini si rifugia con i pugni Calcio d'angolo in favore dell'Ungheria pallone in mezzo attenzione c'è ancora un colpo di testa molto pericoloso da parte del difensore centrale Puzachi pallone che termina ancora una volta sopra la traversa Ungheria che va vicino al golle per due volte nel giro di 30 secondi rimesso in gioco ora per la formazione di Ermanno Ferrari sta tenendo comunque bene il campo fino ad ora il servizio per Renzi che viene anticipato ancora una volta in fallo laterale si gioca il minuto 25 allo stadio olimpico di Seravalle è sempre 0-0 tra San Marino e Ungheria Domeniconi poi Della Valle a cercare Gasperoni ha un controllo problematico interviene la difesa Ungherese che spazza la propria metà campo Crescentini cerca di giocarla su Della Valle che non ci pesa su Valle servizio verticale è molto bravo Puzai ad aprire sulla destra poi per via centrali ora Campo Totte il servizio su Zuisco attenzione il tiro Valentini e poi pallone che finisce in calcio d'angolo ancora Valentini a chiudere calcio calcio d'angolo parte la traiettoria pallone che rimane lì pericoloso poi libera la difesa bianca-azzura in particolare con Moretti ma insiste l'Ungheria che da qualche minuto presidia la metà campo bianca-azzurra ne mette allarga su Puzai anzi si tratta di Totte ne mette il tocco all'indietro Bodor pallone in verticale prova l'aggancio Baizat poi c'è un fallo l'arbitro lascia correre allora pallone che arriva vicino all'area di rigore mette a terra Baizat c'è un cartelino giallo non abbiamo visto i danni di chi ci sembra di Domeniconi ma non vorremmo sbagliare mi arriva la conferma si tratta di Domeniconi il giocatore ammonito calcio di punizione in favore della nazionale ungherese zona pericolosa saremo circa 18 metri dalla porta difesa da Valentini sei giocatori in barriera cinque in questo momento si stacca Gorini sembra Buzacchi il capitano volersi incaricare di questa battuta è tutto pronto parte Buzacchi pallone che supera la barriera e si spegne alle spalle di Valentini ottima la trasformazione del numero 8 ungherese Buzacchi al minuto 28 porta in vantaggio l'Ungheria sul calcio di punizione pallone gestito al meglio da parte del numero 8 ungherese che si è andato a spegnere nel 7 alla destra di Valentini Ungheria 1 San Marino 0 al minuto 28 riparte San Marino con Della Valle Moretti viene spostato allora Domeniconi poi prova a gestire questo pallone Bonifazio a cercare lo scatto di Ciacci che viene anticipato pallone che poi termina in fallo laterale vedremo se la formazione di Ermanno Ferrari avrà la forza di reagire Domeniconi l'anticipo ora a campo L'Ungheria si butta nello spazio Baisatte copre Crescentini Baisatte si accentra il servizio centrale c'è Gorini avanza palla al piede poi il servizio per Ciacci pallone che termina in fallo laterale con le mani Zelesi quando sul cronometro scatta la mezz'ora nel corso del primo tempo due minuti fa l'Ungheria ha sbloccato il risultato grazie al calcio di punizione ben calibrato da Buzaki capitano della formazione allenata da Rot Antal che è ancora in avanti sempre con Baisatte pallone che termina in calcio d'angolo sta facendo collezione di corner la nazionale ungherese dalla bandierina Zuitkovics pallone in mezzo va a saltare in un primo momento Crescentini poi scivola Valentini forse sgambettato da un attaccante ungherese rimane a terra Valentini non dovrebbe trattarsi almeno ci auguriamo di nulla di grave si rialza il numero uno di San Marino un paio di minuti fa ha dovuto capitolare per l'ottima esecuzione di Buzacchi sugli sviluppi di un calcio di punizione il rinvio pallone che supera la metà campo il controllo di petto è di Buzacchi l'autore del gol ancora lui Zeleji Puzai lancio dove non c'è nessuno zona in cui si fa trovare Gorini Bonifasti controllo di Luca Bonifasti due giocatori su di lui pallone in fallo laterale con le mani Gorini Moretti Gorini non si capiscono i due pallone che esce rimessa in gioco Ungherese Puzai Bodor si viaggia per linee orizzontali il cervello tot del centrocampo Ungherese lo scambio ancora con Zeleji arriva il pallone nella zona di Gasperoni che in un primo momento ha la meglio ancora Buzacchi allarga molto bene sulla destra si accentra poi c'è un gran tiro Valentini ha la respinta Vitaioli poi si rifusa in angolo tiro con il sinistro da parte del numero 14 Torghiel ancora un angolo molto molto blando senza problemi senza velocità recupera il pallone l'Ungheria si sente davvero il caldo inoltre gli ungheresi hanno sbloccato il risultato era quello che volevano pallone sul primo palo c'è un tocco proprio ancora del numero 14 Torghiel che non riesce a deviare verso la rete di Valentini che può riprendere il gioco con una rimessa da fondo campo pallone che supera la metà campo c'è un fallo questa volta ai danni di Nicola Ciacci Moretti Vitaioli a cercare lo scatto di Gasperoni non riesce a trattenere il pallone in campo il numero 7 Bianca-Azzurro la rimessa in gioco Torghiel il tocco è su Buzacchi che perde il pallone poi Bonifazi riesce a prendere il tempo viene messo a terra calcio di punizione siamo a circa 25 28 metri dalla porta difesa da Ballog per il momento non è stato mai chiamato in causa il lungo portiere ungherese a buona occasione la nazionale di Ermano Ferrari l'ha avuta all'undicesimo sul corner deviato di testa da Crescentini pallone che è finito non lontano dalla traversa attenzione parte Vitaioli pallone che sorvola non di molto la traversa conclusione sottolineata dagli applausi del pubblico al trentacinquesimo riparte l'Ungheria ne mette su di lui Gasperoni si libera del pallone servendo Baizat poi l'ha rimessa in gioco ungherese Bodor ne mette pallone in mezzo Bonifasi Domeniconi Ciacci buona l'azione bianca azzurra il taglio di Renzi è troppo corto il pallone di Nicola Ciacci si è prodigato Renzi nello scatto non è riuscito ad arrivare su questo pallone Bodor solita trama di passaggi dell'Ungheria Baizat su di lui Domeniconi Baizat si libera della sfera scaricando sulla destra poi Totte allarga Van Zacke servizio completamente errato rimessa in gioco della nazionale di Armando Ferrari Vitaioli a cercare a cercare a Renzi l'arbitro molto molto fiscale in questo caso da una rimessa in gioco agli ungheresi un cambio fallo un teatrino quello a cui stiamo assistendo lo show è uno show quello del direttore di gara maltese a questo punto applausi sarcastici quelli dei tifosi presenti nei confronti di Anthony Zambi che ha voluto con questo teatrino fare vedere che c'è si prosegue con Bonifazi che guadagna una rimessa in gioco c'è un giocatore a terra si tratta di Alex Gasperoni si rialza dei problemi Alex Gasperoni viene aiutato dal massaggiatore mani sul volto per il giocatore appartenente al San Marino nel frattempo già battuto la rimessa in gioco con Renzi che tenta di farsi luce Renzi viene anticipato e allora Della Valle butta in una zona dove non ci sono maglie bianche azzure poi Ciacci va al pressing si deve liberare della sfera Banzacche le urla di Ermanno Ferrari l'anticipo netto ancora di Totte poi Gasperoni che è rientrato pallone buono attenzione Ciacci Ciacci tiro di Ciacci pallone deviato da Ballog clamorosa occasione per Nicola Ciacci al minuto 39 che gol che si è mangiato Ciacci davvero un ottimo servizio quello di Gasperoni pallone filtrante Ciacci davanti al portiere non è riuscito a superarlo ancora San Marino con questo tiro cross di Moretti che si spegne fuori dalla portata della porta difesa da Balog ma che occasione quella avuta da Ciacci da Ciacci ora l'Ungheria che non ha idee chiare il servizio sbagliato è di Buzachi pallone regalato la nazionale biancazzurra ha avuto la possibilità di portarsi sull'1-1 e sarebbe stato un risultato importante prima del riposo occasione colossale per Nicola Ciacci calcio d'angolo la battuta di tot pallone arcuato attenzione mucchio in area di rigore non arriva il fischio del direttore di gara allora della valle mette fuori ancora nei pressi dei centrocampisti ungheresi che manovrano con Zelesi poi tot sul settore di destra parte il traversone c'è Alex Gasperoni mette il pallone nella zona di Renzi ha un ottimo controllo Alexander Renzi c'è un fallo su di lui calcio di punizione 4 minuti meno al recupero poi vedremo quando quanto intenderà recuperare il direttore di gara prima del riposo c'è un fallo ora di Domeniconi ai danni di Busacchi sguardo cattivo di Busacchi danni di Domeniconi tutto tranquillo Puzai poi Nemette una volta a sinistra una volta a destra questo numero 17 Ungherese Van Zacker Puzai Zelesi Nemette pallone filtrante c'è lo scatto di Baisatte la chiusura di Federico Crescentini Nemette con le mani una sorta di angolo corto pallone in area di rigore c'è il colpo di testa di Baisatte libera la difesa Bianca Azzurra poi ancora Zelesi parte il traversone dalla parte opposta di testa c'è il ponte poi il tiro di Buzachi l'autore del gol pallone fuori due minuti al termine del primo tempo Ungheria 1 San Marino 0 ma Nicola Ciacci al 39esimo ha sulla coscienza un'occasione davvero importante per la nazionale di Armando Ferrari per arrivare al pareggio Luca Bonifazi l'anticipo su di lui poi c'è addirittura un tiro dal metacampo di Nemette che ha visto Valentini fuori dai pali Valentini attento non si fa sorprendere Crescentini il taglio a cercare Gasperoni pallone dentro per Ciacci c'è l'intervento di Nicola Ciacci i danni di Puzai a terra il numero 4 Oliver Puzai classe 81 per lui Vanzac Buzachi allarga tutto a destra Totte poi Bodor che va il traversone a cercare il giocatore con la maglia numero 18 Baisat l'intervento di Della Valle Valentini pallone profondo di testa Vanzac poi sbaglia la misura del lancio Bodor anzi Vanzac regalando la rimessa in gioco già battuta Gorini qualche problema per lui Bonifasti rimedia in qualche modo poi Zuiscovics pallone sulla sinistra Bodor Gasperoni su di lui Busachi ne mette cerca il dribbling ne mette mantiene il pallone in campo anzi no si alza la bandierina del collaboratore del direttore di gara si riprende là con un rinvio da fondo campo è scaduto il primo tempo siamo già nel recupero Ungheria 1 San Marino 0 grazie al gol di Busachi messo segno al minuto 28 su calcio di punizione lo scambio tra Baisat e Tot pallone che arriva tra le braccia di Valentini che ha qualche problema va poi al rinvio Renzi il fallo di mano di Zelesi calcio di punizione della Valle in servizio su Gorini scende sulla fascia di sinistra Gorini viene messo a terra poi c'è il fallo anche di Domeniconi e l'arbitro decide che basta così squadre che vanno a riposo sul vantaggio dell'Ungheria per 1-0 ripeto il gol di Busachi al 28esimo poi al 39esimo è stata sui piedi di Ciacci l'occasione per pareggiare per il San Marino Ciacci non è riuscito a superare il portiere Balog è tutto per questo primo tempo a risentirci per i secondi 45 minuti nuovamente collegati con lo stadio olimpico di Serravalle sta per riprendere la partita tra la nazionale under 21 di San Marino e quella ungherese risultato al termine del primo tempo 1-0 in favore dell'Ungheria con il gol al 28esimo realizzato da Busachi sul calcio di punizione poi San Marino ha avuto una grande occasione al 39esimo con Nicola Ciacci purtroppo non sfruttata inizia la ripresa con l'Ungheria che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi pallone giocato da Puzai intanto non ci sembrano non ci sembra che ci siano state sostituzioni nel corso dell'intervallo e dunque sono rientrati i medesimi undici che hanno disputato la prima frazione di gara riceve Moretti poi c'è un fallo ai danni di Alex Gasperoni ci sarà calcio di punizione per una nazionale bianca-azzurra che ha giocato un buon primo tempo peccato davvero per l'occasione purtroppo non sfruttata da Nicola Ciacci scende sulla destra Torgel su di lui Della Valle che scarica su Gorini che non può far altro che buttare in fallo laterale sale Zelesi per la rimessa in gioco servizio su Totte ancora Zelesi Totte anzi Buzacchi il capitano ora pallone che viene giocato da Van Zac c'è il pressing dei centrocampisti bianca-azzurri scarica Buzacchi sulla sinistra Torgel al centro si muove bene Buzacchi prova il tiro Buzacchi ancora Valentini in calcio d'angolo al minuto due della ripresa ancora una volta pericolosa l'Ungheria Baizat Valentini ancora bravo calcio d'angolo già battuto Buzacchi apre sulla sinistra su Van Zac che perde il contrasto ma guadagna una rimessa in gioco la rimessa in gioco per Bodor pallone in area c'è un fallo di Baizat calcio di punizione è pronto l'ottimo Federico Valentini che ha risposto a tutte le conclusioni degli ungheresi tranne a quella di Buzacchi che non è riuscito a parare grazie anche alla bella traiettoria del tiro di Buzacchi che ha sfruttato al meglio un calcio di punizione Valentini al rinvio il colpo di testa di Zelesi poi Torgel Renzi anzi Moretti della Valle per Valentini il rinvio nella zona di Ciacci che viene messo a terra c'è calcio di punizione bravo Ciacci a prendere questo fallo ma viene fermato il gioco in quanto il segnaline ha ravvisato un fuorigioco e allora Zelesi all'indietro Puzai molto molto macchinosa la manovra ungherese ora passa tra i piedi di Nemet Crescentini mette in fallo il piccolo trotto recupera il pallone il numero 12 Balog non sembrano volere spingere sull'acceleratore i ragazzi del mister Rond Antal sale Vitaioli in anticipo su Nemet pallone fuori Nemet alla rimessa in gioco servito Buzaki il tocco all'indietro sul Libero Zelesi Puzai Van Zac non avranno i centrali poi pallone che arriva Zuiscovic e Valentini fa su alla sfera minuto 6 nella ripresa Ungheria 1 San Marino 0 Totte poi Bodor si ferma il tocco all'indietro Van Zac e chiama in causa il lontano Zelesi si alza il centrocampo bianca-azzurro Zelesi cerca e trova Zuiscovic poi il taglio a cercare Baisat pallone che termina fuori dal rettangolo di gara con le mani Gorini a cercare Renzi messo a terra Ceciacci il controllo a un giocatore su di lui perde il pallone Ciacci anche per l'intervento falloso di Puzai e allora calcio di punizione della Valle c'è un cambio tra le file bianca-azzurre esce Luca Bonifazi dentro con il numero 16 Alan Toccaceli andiamo a vedere come si posiziona tatticamente la nazionale Toccaceli è una punta dovrebbe giocare accanto a Ceci infatti è così Ceci adesso in possesso di palla a cercare Renzi che scatta sul settore di sinistra c'è una deviazione l'ha rimessa in gioco e proprio per Renzi poi Toccaceli viene anticipato ma c'è calcio d'angolo per l'under 21 di Armando Ferrari che vuole arrivare al gol dalla bandierina Toccaceli pallone in mezzo c'è la respinta poi perde il pallone Domeniconi c'è un fallo ai danni di Zuitkovics che rimane anche a terra si riprende il giocatore ungherese Zeleji Busaki poi lo scambio Zuitkovics pallone che arriva sul settore di destra entra in area il giocatore Torgel c'è l'ottimo recupero della difesa di San Marino ci sarà ancora calcio d'angolo sempre Zuitkovics dalla bandierina pallone in area attenzione libera la difesa Biancazzura c'è il contropiede parte sulla sinistra Alan Toccaceli grande falcata il tocco è per Alexander Renzi parte palla al piede il servizio ancora per Toccaceli Moretti l'1-2 entra Domeniconi poi ancora Toccaceli che guadagna l'area di rigore non ha un buon controllo Alan Toccaceli ma è davvero buona questa azione della nazionale sanmarinese sottolineata dagli applausi del pubblico al minuto 9 prova a giocarsela l'Under 21 di Ermano Ferrari contro i più quotati giocatori ungheresi siamo sempre sull'1-0 della Valle va a spazzare poi Van Zacke della Valle Zelezi arriva Ciacci Zelezi di testa su Tot poi Puzai Van Zacke avanza ne mette scarica sulla sinistra lo fa in maniera errata può tirare il fiato la difesa bianca-azzurra l'abbiamo detto più volte nel corso del primo tempo grande caldo qui allo stadio olimpico almeno 28 gradi una serata a Fosa ancora l'Ungheria prova la penetrazione in area di rigore incursione non riuscita si ricomincia Zelezi fallo su di lui e di Alexander Renzi c'è il giallo per Moretti probabilmente allora è suo il fallo ai danni di Zelezi secondo Ammonito nella formazione bianca-azzurra dopo Domeniconi Moretti scattata l'Amariglia anche per lui scattata l'Amariglia anche per lui prova ora Zuiscovics a mettere in mezzo il pallone cercando i lunghi molto attento il direttore di gara sulle coppie che si vanno a formare in area di rigore parte il traversone pallone arcuato c'è il fallo ravvisato dal signor Anthony Zammitt Maltese che ha qualcosa da dire anche a Federico Valentini allarga le braccia Valentini è tutto pronto per il calcio di punizione sono trascorsi 13 minuti dall'inizio della ripresa Ungheria 3 a 1 San Marino 0 tiene banco il gol di Buzacchi realizzato al 28esimo del primo tempo Vitaioli con le mani servizio per Tocacieli arpiona il pallone Torghel Crescentini si trattava di Nicola Ciacci eccolo ancora in possesso di palla ancora un pallo laterale ritmi blandi ovviamente il caldo si fa sentire ma manca ancora più di mezz'ora al termine della partita bisognerà fare ricorso a tutte le energie ancora la fiscalità del signor Zammit a concedere un cambio fallo ancora una volta Crescentini l'ennesimo fischio del direttore di gara a concedere il calcio di punizione Vitaioli Gasperoni salta un uomo poi cerca il lancio profondo attenzione Moretti ha un controllo un po' difficoltoso poi cerca di tornare sulla sfera a questo punto si sente il suono del fischio del direttore di gara ancora una volta a fermare il gioco il fallo di Moretti ci poteva stare calcio di punizione Balog sale della valle il contrasto si può giocare con Totte che spedisce direttamente in fallo laterale doppio cambio nelle file ungheresi dentro con il numero 9 Kopla Kovics fuori Nemet con il numero 17 Dunque Kopla Kovics dentro al posto di Nemet con il numero 13 Juaz prende il posto del numero 14 Torgel Kopla Kovics Juaz al posto di Torgel e Nemet questa è la decisione del signor Antal selezionatore ungherese Zeleji a cercare Zuiscovic anticipato poi della valle in fallo laterale con le mani Puzai riceve lo scambio con Puzai l'attacco di Ciacci allora chiamato in causa Balog il rinvio del portiere ungherese molto bene Gorini Moretti ha la possibilità di scaricare su Ciacci che viene preso in controtempo e allora Buzaki Totte il tocco al centro poi un strano passaggio di indietro di Gasperoni che causa il corner favorevole alla formazione ungherese dalla bandierina come al solito Zuitkovics pallone al centro attenzione sale Crescentini ancora un fallo ravvisato da Zammit calcio di punizione Valentini il servizio su della valle ancora una volta ferma il gioco questo inflessibile signore in giallo molto molto fiscale di testa Gasperoni poi c'è un rinvio sbagliato allora la possibilità per Ciacci entra in aria va giù Ciacci e c'è il calcio di rigore calcio di rigore in favore della formazione di Ermanno Ferrari è andato giù Ciacci e il direttore di gara sembrava non accordare il tiro dal dischetto poi il secondo intervento di Puzai nei confronti di Ciacci calcio di rigore in favore della formazione sanmarinese ora momento assolutamente importante dell'incontro cappanello di persone di giocatori intorno attenzione c'è una decisione del direttore di gara che manda sotto la doccia il numero 4 Puzai espulso e la situazione si va a mettere molto bene per la formazione di Ermanno Ferrari ma adesso va sfruttato questo calcio di rigore sul pallone Alexander Renzi contro Janos Balog siamo siamo al minuto 20 della ripresa momento topico della gara momento topico della gara è tutto pronto? Renzi contro Balog Renzi gol ha realizzato Alexander Renzi secondo gol per lui grande grande gioia da parte dei giocatori della nazionale Under 21 tutti ad abbracciare la panchina Alexander Renzi porta in parità la nazionale Under 21 e l'Ungheria e in 10 uomini per l'espulsione di Puzai Alexander Renzi 1-1 ineccepibile la trasformazione del giocatore scoperto da Massimo Bonini ora triplichano le energie con questo gol per la formazione di Ermanno Ferrari che prova ad andare in contropiede c'è un fallo brutto ai danni di Domeniconi scatta l'amariglia per il giocatore della nazionale ungherese il capitano Buzaki ammonito a terra Domeniconi 21 minuti 15 secondi nella ripresa San Marino 1 Ungheria 1 Della Valle Gorini Tocca Celi Crescentini pallone scaramentato in avanti chiude la difesa ungherese scatta sulla destra il nuovo entrato Juaz che va al traversone pallone sbagliato che termina in fallo di fondo campo con grande calma Federico Valentini il rinvio di testa su Alex Gasperoni Buzaki c'è un fallo giù Gasperoni che rimane a terra grande freddezza da parte di Alexander Renzi dagli 11 metri davvero un'esecuzione perfetta quella del numero 6 biancazzurro in due gare due gol per il giocatore di Germano Ferrari che non parla l'italiano ripeto viene da Detroit intanto Domeniconi Veronica poi va il lancio profondo non c'era il fuorigioco di Nicola Ciacci che ha subito il fallo che ha poi causato il calcio di rigore e l'espulsione di Puzai importantissimo questo fallo preso da Ciacci che si doveva fare perdonare un errore al termine del primo tempo attenzione intanto all'Ungheria che ci prova pallone che arriva però a Domeniconi poi lo tiene Ciacci lo scambia ancora con Domeniconi a terra Alan Toccaceli una pallonata presa in volto anzi si tratta di Gasperoni dicevo che al 39esimo del primo tempo Ciacci aveva avuto un'occasione davvero importante per pareggiare i conti non era riuscito a sfruttarla a tu per tu con Balog ma si è ampiamente rifatto Nicola Ciacci con il calcio di rigore poi trasformato in maniera impecchiabile da Alexander Renzi sono 25 i minuti sul cronometro San Marino 1 Ungheria 1 il rilancio con le mani poi pallone che viene giocato da Domeniconi Renzi cerca un controllo non riesce ad artionare il pallone allora Gorini che controllo questo invece di Gorini poi sbaglia il rinvio comunque apprezzabile lo stop al volo di Matteo Gorini Crescentini Ciacci tocca Cieli sulle ali dell'entusiasmo la nazionale di Ermano Ferrari Gasperoni pallone dentro esce Balog applausi del pubblico per questa nazionale che sta dimostrando davvero tanto attenzione va via ma c'è un fuorigioco c'è un fuorigioco davvero davvero discutibile di Nicola Ciacci fuorigioco discutibile al minuto 26 Nicola Ciacci era andato via molto probabilmente in gioco ovviamente non siamo in grado di rivedere il replay ma lo faremo quanto prima per vedere se si trattava veramente di offside sarebbe stata un'altra opportunità importante per San Marino che ora tiene lontano i giocatori ungheresi della propria area di rigore sta facendo la partita si perdono alcuni secondi rientra Nicola Ciacci sul rettangolo di gara il rinvio di Valentini di testa Banzacche poi tocca Celi tocca Celi il controllo sbaglia l'appoggio Gasperoni riparte allora Juaz l'anticipo di Crescentini che sta facendo una partita superlativa Federico Crescentini uno dei migliori in campo prova a sfondare ora Buzacchi Buzacchi lo scarica attenzione si chiude la difesa bianca-azzurra poi c'è un fallo scivola anzi il numero 7 Zuiscovics e c'è l'ammunizione anche per Crescentini partita che continua comunque a rimanere corretta Bador poi ancora Crescentini sempre Bador pallone in mezzo si alza la bandierina anzi no comunque nessun pericolo in questo caso per la difesa di Valentini passano i minuti siamo al ventottesimo San Marino 1 Ungheria 1 Renzi Ciacci cerca di tenere il pollo va via Ciacci c'è un fallo l'arbitro lascia correre poi fischia il fallo ai danni di Nicola Ciacci ottimo il secondo tempo di Nicola Ciacci ancora lui in possesso di palla prova a liberarsi di due giocatori non vi riesce allora dalla parte opposta il numero 18 Baisatte scarica sulla sinistra dove scende Zelesi si ferma parte il traversone di testa chiude la diagonale Gorini poi Renzi Renzi Gorini Gorini va in sovrapposizione a campo Gorini pallone in verticale dalla parte opposta Alan Toccacelli prima di lui Bodocche Toccacelli però riesce ad arrivare sul pallone molto bravo Toccacelli c'è Alex Gasperoni Toccacelli prova ad andare a traversone sbaglia completamente la misura applausi a scena aperta per questa nazionale stiamo assistendo a una grande partita dell'Under 21 di Ermano Ferrari minuto 30 abbiamo superato la mezz'ora 1 a 1 tra Ungheria e San Marino con le mani la nazionale sanmarinese c'è il tiro poi addirittura è Moretti che si viene a trovare sulla traiettoria il tiro di Domeniconi continua a mantenere il pallone e gioco in mano l'Under 21 di Ermano Ferrari il rinvio di Baloghe di testa della valle poi l'attacco dello spazio di Zuiscovics la chiusura in calcio d'angolo sono questi i pericoli maggiori per l'Under 21 di Ermano Ferrari dalle palle inattive la rimessa in gioco poi Renzi in ripiegamento difensivo sarà ancora fallo laterale in precedenza coperti dal nostro operatore non abbiamo visto la rimessa in gioco bensì l'angolo ce ne scusiamo rimessa in gioco come in questo caso pallone in area di rigore deviato c'è Totte che fa ripartire la manovra ungherese da Van Zaghe Van Zaghe palla al piede non ha idee l'Ungheria allora tocca a Celi scarica su Ciacci c'è la possibilità Ciacci perde il controllo allora Totte ricordiamo che l'Ungheria è in 10 uomini per l'espulsione di Puzai ora chiude Alex Gasperoni ancora in angolo si avvicina Zuiscovics alla bandierina per sfruttare questo corner pallone in mezzo non esce Valentini pallone che viene tranquillamente giocato da Alex Gasperoni con le mani Buzacchi pallone in mezzo attenzione di testa Crescentini poi Totte deve ricominciare va bene così Bodor ancora della Valle poi mette il corpo Moretti prende anche una botta all'ancchia si riprende Alex Gasperoni ora un po' chiusa l'under di Armando Ferrari attenzione Valentini c'è forse un fallo su di lui l'arbitro lascia correre poi il numero 18 Baisat perde la testa fallo laterale ancora in area di rigore attenzione Crescentini sta facendo una partita eccellente parte Renzi c'è un fallo attenzione si potrebbe trattare di espulsione anche in questo caso staremo a vedere ultimo uomo ultimo uomo ma il direttore di gara ha in mano solo il giallo per Zelesi ora trova a campo l'under 21 era partito Alexander Renzi su di lui l'intervento assolutamente falloso di Zelesi è scattata l'amariglia per il difensore ungherese 10 minuti al termine di una straordinaria partita da parte dell'under 21 siamo sul risultato di 1 a 1 della valle Vitaioli poi l'ottimo controllo di Bodor il taglio sulla sinistra c'è il traversone deviato Valentini blocca con sicurezza pallone lunghissimo che si spegne in fallo laterale per la protezione di Van Zacke si distende l'Ungheria con Zelesi appena ammonito prova ad accentrarsi Zelesi vede sulla destra Busacchi Busacchi cerca e trova un compagno poi pallone al centro attenzione c'è il tiro blocca Valentini e poi su di lui l'intervento falloso del numero 13 Juaz ma palla golle per l'Ungheria al minuto 36 con il tiro da parte se non andiamo errati di Bodor Valentini sicuro rimane a terra guadagna secondi Valentini fa bene così l'intervento su di lui a gioco fermo di Juaz Valentini a terra respira tutta la squadra di Armando Ferrari che per il momento ha portato una sola sostituzione richiamandoli in panchina Luca Bonifazi l'ingresso in campo di Alan Toccacieli poca Ungheria nella ripresa molto San Marino per il momento risultato di parità 1 a 1 un risultato davvero davvero importante per la nazionale di Ermano Ferrari ci avviciniamo al minuto 38 7 al termine più recupero di una partita assolutamente fondamentale per la nazionale di Ermano Ferrari attenzione Gasperoni si appoggia Gasperoni su Totte c'è il fallo Bodor Vitaglioli prova Crescentini ed evitare il calcio d'angolo ci riesce pallone in fallo laterale sottolineo ancora una volta la prova maiuscola di Federico Crescentini ancora lui al rinvio pallone spazzato via nella zona di Van Zacke poi Totte ora la sfera arriva al numero 9 Koplakovics che compie un intervento falloso ai danni di Alan Toccaceli calcio di punizione passano i minuti della valle Toccaceli sfiora di quel tanto per servire Ciacci ma rientra in passaggio di palla l'Ungheria con Bodor il tocco all'indietro è su Van Zacke poi si complica la vita Totte che però riesce a scaricare sulla sinistra Bodor pallone arcuato attenzione Valentini senza problemi Federico Valentini in rinvio nella zona presidiata da Ciacci che sfiora di testa poi scatta Zuiskovics prima di lui Gorini Zelesi L'Ungheria con Baizat cross al centro attenzione sale di testa il nuovo entrato Koplakovics sfiora solo anzi si trattava sempre del nuovo entrato ma non Koplakovics bensì Juaz pallone fuori Valentini abbiamo superato il quarantesimo minuto 5 al termine più recupero allo stadio olimpico di Serravalle si gioca per la qualificazione alle fasi finali del campionato europeo che si disputerà in Portogallo è la penultima partita della nazionale under 21 che chiuderà in Svezia il 5 settembre prossimo Ungheria San Marino 1 a 1 con l'Ungheria che attacca sul settore di destra pallone centrale Zelesi entra in area attenzione Zelesi esce Federico Valentini fa sua la sfera ottima anche la prova delle portiere Bianca Azzurro 41-18 pallone in verticale Ciacci in anticipato poi Vitaioli di testa Totte per Buzacchi ancora Gorini alla meglio alla meglio poi c'è il fallo segnalato ai danni di Zuitkovic 42 sul cronometro 3 al termine più recupero Buzacchi il tiro attenzione passa il pallone che pericolo Valentini si rifugia in angolo 42esimo Buzacchi destro davvero brividi sulle spalle dei tifosi biancazzurri calcio d'angolo preme lungheria pallone dentro c'è la palla che rimane lì l'arbitro vede un fallo va bene così va bene così si respira rimane a terra un giocatore della nazionale biancazzurra viene richiamata la barella dal direttore di gara passano i secondi passano i secondi siamo al 43esimo in questo secondo due al termine San Marino 1 Ungheria 1 Ferrari dà consigli ai giocatori che si avvicinano alla sua panchina sta per entrare in campo con il numero 15 Lorenzo Canini vedremo chi è il giocatore che lascerà il posto a Canini per questi scampoli di gioco probabilmente lo stesso giocatore che lascia il campo non abbiamo purtroppo visto di chi si tratta ovviamente chiunque esso sia ci auguriamo che non sia nulla di grave le mani sul volto del giocatore che viene trasportato fuori in barella potrebbe trattarsi di Domeniconi intanto è pronto Canini a bordo campo della valle siamo davvero alla fine della partita con Busacchi che attacca fermato da Moretti ci sarà calcio di punizione ultimi palpitanti momenti di una sfida che potrebbe scrivere la storia Ungheria 1 San Marino 1 15 secondi al 45 calcio di punizione in favore della nazionale ungherese è pronto Zuiscovics e Bodor col sinistro Bodor 4 giocatori in barriera Bodor pallone al 4 e palla in rete palla in rete palla in rete ancora un calcio di punizione fatale alla formazione bianca azzurra che proprio al 45 vede svanire un sogno Bodor preciso inesorabile porta l'Ungheria in vantaggio Bodor delusione davvero tanta delusione nella formazione di Ermanno Ferrari esce Alexander Renzi dentro Canini mancavano pochi secondi alla fine vediamo adesso quanto ci sarà di recupero 5 minuti c'è tempo c'è tempo c'è tempo 5 minuti il recupero deciso dal direttore di gara devono fare appello a tutte le energie i giocatori dell'Under 21 che comunque vada a finire hanno disputato davvero una grande partita qui allo stadio olimpico solo due calci piazzati hanno consentito l'Ungheria per il momento di far suo l'incontro ma c'è ancora tempo vedremo rimessa in gioco in favore dell'Under 21 Biancazzura Vitaglioli bisogna buttare via su questo pallone Vitaglioli ha un'esitazione poi Crescentini sicuramente il miglior in campo pallone che finisce fuori chiaramente Balog con calma mondiale va al recupero di questo pallone Vitaglioli poi un contrasto ancora Vitaglioli tanta amarezza davvero se finisse così perché la Nazionale meritava il pareggio ora rimane a terra un giocatore ungherese che si rialza davvero infallibili i tiratori ungheresi quando si è trattato di trasformare il calcio di punizione rientra in campo il capitano Buzaki 49 minuti sostituzione anche nell'Ungheria fuori con il numero 18 Baisat dentro con il numero 11 Zegledi fuori Baisat dentro Zegledi qualche polemica con Baisat si riprende il fallo ai danni di Gorini buona anche la sua partita 30 secondi al termine vedremo se l'arbitro recupererà ancora qualche spicciolo di gara Bitaioli bisogna buttare su questo pallone lo fa adesso Bitaioli nella zona di Ciacci ma pallone non è preciso ci sarà un fallo laterale Bodor pallone che arriva a Bitaioli poi Canini Toccaceli Gorini il controllo prova il traversone Gorini rimedia la difesa ungherese sono gli ultimi spiccioli di gara Ungheria 2 San Marino 1 avanza il capitano Buzacchi rimessa in gioco calma olimpica per Zelesi nel recupero di questo pallone l'arbitro facendo che recupera se Zelesi non si appresta a riprendere il pallone in gioco lo fa adesso poi l'intervento di Canini arriva a Zelesi c'è un po' di nervosismo in campo l'amariglia anche per Canini il giallo per Canini 51esimo minuto siamo davvero alla fine di questo incontro giocato davvero in maniera egregia dalla nazionale Under 21 il calcio di punizione di Baisatte sono stati fatali proprio le punizioni all'11 di Armando Ferrari spostato Crescentini con un fallo l'arbitro manda tutti sotto la doccia una delusione davvero questa per l'Under 21 che avrebbe meritato quantomeno il pareggio io vado a riepilogare le marcature al 28esimo il gol di Buzacchi sul calcio di punizione nel primo tempo poi nella ripresa l'1-1 con il rigore realizzato da Alexander Renzi quando la nazionale Under 21 era vicina all'impresa al 45esimo tempo scaduto è arrivato il gol di Bodor sempre su calcio di punizione Ungheria 2 San Marino 1 ma che peccato per la nazionale di Ermanno Ferrari che saluta il pubblico il quale tributa davvero un applauso a questa nazionale che se lo merita tutto io ringrazio per le riprese Enrico Bellofiore da Lorenzo Giardi è davvero tutto ribadendo che l'Ungheria ha battuto con il punteggio di 2-1 la nazionale Under 21 San Marinese che dovrà giocare ancora un incontro in queste fasi di qualificazione agli europei 2004 in Svezia il 5 settembre a voi tutti la più cordiale buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti